bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi abbiamo trovato un po di novità per quello che riguarda le 24 ore passate di fortnite ma non mancherò di parlarvi ancora di ultimi dettagli che sono arrivati per quanto riguarda l'evento della season 2 l'evento che tutti stiamo aspettando e che arriverà alle ore 20 di questo 15 giugno aspetteremo poi ovviamente il 17 per il cambio season e vi aspetto tutti prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali anche al canale numero 2 e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è proprio il messaggio che arriva nella sezione delle news di fortnite quella in alto a destra nel riquadro in lobby termine pass battaglia direi che è una notizia fantastica perché è la conferma appunto ufficiale che non ci saranno dei rinvii ulteriori per questa season già ve lo avevo confermato fino a ieri nei video del 99,9% beh questo è proprio il 100% quindi ci ricorda molto velocemente il tempo agli sgoccioli per sbloccare deadpool classico proprietari di pass battaglia assicuratevi di completare le sue sfide prima della fine della season per sbloccarlo definitivamente quindi ragazzi ultimi giorni ultime occasioni per acquistarlo per ottenere appunto deadpool e le sue sfide devo dire che è veramente fatto tanto tanto bene come skin se potete e se volete non perdete questa occasione e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché voglio aggiornarvi sull'immagine che vi avevo fatto vedere ieri ovviamente molti si sprecano in questi giorni nel creare video la maggior parte clickbait dove sostengono di avere delle immagini in esclusiva dell'evento della season 3 allora c'è un video ragazzi che è quasi certamente sicuro sia della season 3 e io ho deciso di non farvelo vedere già da un paio di settimane oramai perché come vi ho detto non voglio farvi vedere nulla non voglio spoilerarvi niente dell'evento è l'unica cosa che non vi spoilerò mai alla peggio se c'è qualcosa ve lo dico con un bel po' di anticipo in modo che potete fermare il video questa immagine che è quella che avete visto anche ieri è super fake ve la rimostro oggi perché il creatore ha aggiunto dei dettagli che sono davvero molto interessanti e questa non è altro che la sua concezione di quello che potrebbe succedere nell'evento quindi è solo il parto mentale di un creator lui suppone che ci sia la distruzione dell'agenzia al centro come vediamo c'è un buco ieri stava lavorando con il caos engine stava lavorando con la real engine e aveva fatto tutta la prima parte mentre oggi ha aggiunto un sacco di dettagli davvero interessanti talmente interessanti che sembrano veramente essere presi dal possibile evento di questa season 2 in realtà come vi ho appena detto è solo una creazione di un fan quindi ci avrà preso chi lo sa io lo so però non ve lo dico chi lo sa comunque andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è davvero interessante e curioso tutto quello che è capitato ieri allora nello shop di ieri è uscito nuovamente l'agente del caos l'agente del caos in poche parole è una delle skin più misteriose di fortnite perché lo abbiamo visto protagonista anche se non in prima linea di tanti eventi che sono successi ne abbiamo parlato addirittura nel nella prima si addirittura ne abbiamo parlato nel capitolo 1 perché uscì quando ci fu gotham city vi ricordate che c'erano i manifesti delle delle cinque skin tra cui lui e ieri riuscendo nello shop sembrava appunto tutto normale la cosa che in realtà ha addestato molta curiosità nei leakers e quelli che hanno avuto più attenzione è stato il tweet ufficiale di fortnite che dice looks good in the suite but is not his final form quindi non è la sua forma finale ed è una cosa davvero interessantissima perché dire una cosa del genere si sono ovviamente sbizzarriti tutti nella community di fortnite a tirare le proprie conclusioni e le proprie idee c'è da dire che alcune secondo me sono molto interessanti la gente del caos noi lo abbiamo sempre visto come una figura negativa perché abbiamo immaginato appunto vuoi per il suo aspetto vuoi perché è sempre stato presente bene o male in alcune schermate di caricamento negli eventi come un antagonista ma in realtà non è che per caso potrebbe essere proprio la gente del caos che fermerà mida nel suo intento di attivare il doomsday e quindi di distruggere la mappa c'è una teoria molto importante che voglio farvi vedere noi ovviamente giochiamo viviamo questa parte di fortnite sulla storyline delle due fazioni le ombre e gli spettri noi sappiamo che nella sezione degli spettri ci sono c'è mida al capo praticamente il leader degli spettri e mida ma non conosciamo quale sia il leader delle ombre e se guardiamo correttamente il logo delle ombre beh quella maschera lì e vi faccio rivedere diciamo che è molto simile qua purtroppo lo vediamo nell'altra versione è molto simile alla maschera della gente del caos è praticamente quella ma in realtà appunto non sappiamo chi sia il capo di questa fazione potrebbe davvero essere lui ci starebbe tantissimo come cosa vorrebbe ancora dire che nella season 3 potranno esserci nuovamente gli agenti io credo che ci saranno ancora non so perché ho questo presentimento ne sono abbastanza convinto però se si trattasse appunto della gente del caos sarebbe tanta tanta roba e andiamo a parlare di un altro argomento prima di salutarci un argomento mitico se volessimo rimanere in tema conosciamo ovviamente tutte le armi mitiche presenti in gioco quelle che trovate appunto dai boss di ogni rispettiva location dell'agenzia ma salta fuori un altro video proprio freschissimo di qualche ora fa dove è stato pescato un altro pesce mitico perché si fa il video quando viene pescato un pesce mitico perché la possibilità di pescarlo dovrebbe essere una su sei milioni di pescate e vi faccio vedere vi faccio vedere eccolo qua ragazzi la ragazzo che lo ha pescato guardate in basso a destra nell'inventario vedete il quarto slot è quello del pesciazzo mitico e lui in 1v1 va a chiudere il game così banana gold spara il pesce mitico che come sapete fa 200 di danno contento come una pasqua distrugge pesantemente il suo avversario ed eccolo qua ragazzi abbiamo la fortuna di rivederlo in maniera molto nitida in game il mythic goldfish diciamo quello che tutti sappiamo che c'è ma purtroppo che quasi nessuno di noi prenderà mai insomma ragazzi anche per oggi tantissime news o meglio quelle che ci sono dobbiamo avere ancora qualche giorno di pazienza ma io sarò in live ovviamente per l'evento e voi proprio adesso invece mi trovate in live su twitch ciao il problema grande di questo video è che adesso mancano ben 46 secondi per arrivare a 10 minuti quindi semplicemente noi piuttosto che lasciare una schermata nera possiamo guardare questa faccia da pirla che cerca disperatamente arrampicandosi sugli specchi come se fosse uno scoiattolo di portarlo a 10 minuti e 3 secondi perché due secondi potrebbe non andar bene per l'algoritmo invece 10 e 03 è uno di quei piccoli trucchi che ti possono aiutare a fare la monetizzazione più giusto hai capito ragazzi dici cazzo qua maga 13 secondi e io sono qua a fare il bausha no no sono qua a dirvi ragazzi bella per tutti easy ce la facciamo non ce la facciamo in realtà sto cera tiro acqua al mio mulino anche se in realtà non ho un mulino però ho un po di acqua beh ragazzi abbiamo sforato sono su twitch lol grazie a tutti